Siamo ritornati al passato per inventare la comunicazione del futuro. Radio Stapp, l'esperienza di ieri nei multimediali di oggi. Radio Stapp, l'unica. Per la pubblicità su Radio Stapp, chiama il numero 340 75 59 392. Ehi, non ci lasciare. Lazio, a Morrison, la prova d'appello. Tra il DS Tare, Pioli e l'inglese, incontro a tre e un altro chiarimento. Ultima occasione per mostrare se vale. Jingle Spot. Residence Traiano, sugli altipiani di Arcinazio. Prenotate, avrete uno sconto del 30%, supernottamento e ristorante. Il DS Tare, in occasione del forum al Corriere dello Sport, ha parlato dell'inglese ex Manchester United e ha dato una notizia, svelando un incontro a tre con l'allenatore e il giocatore. Urgeva un chiarimento. Suona come una prova d'appello per il fantasista inglese. Pioli era stato chiaro in una delle ultime conferenze stampa a Formello. Morrison sa cosa deve fare e cosa non deve fare per essere convocato. Il tempo del suo inserimento è finito. Il discorso vale per lui, come tutti gli altri giocatori che alleno. Tare è stato altrettanto chiaro, ha dato ragione implicitamente al tecnico della Lazio, cercando però di far capire al ragazzo che questa può essere la sua ultima possibilità. Morrison è un talento, uno per cui vale la pena di pagare il biglietto per vedere la partita. Viene descritto come un bad boy, in verità non lo è. Va costruito completamente il suo approccio alla realtà italiana, dalla lingua alle abitudini, soprattutto alla mentalità di lavoro. Se Morrison riuscirà a entrare in questo contesto, darà un contributo molto importante alla Lazio, perché ha qualità. Tare ci crede, ha parlato di mentalità e di lavoro. Ravel ha nostalgia di Londra. Maura sfrutterà questi mesi per crescere e svoltare alla Lazio. Dovrà soprattutto capire che non è Pioli il suo problema, come non lo erano da Ferguson in poi. Tutti gli allenatori a cui ha fatto perdere la pazienza. Residenz Traiano, sugli altipiani di Arcinazio, a due passi da Fiugi, a un'ora di macchina da Roma. Per un weekend romantico, con gli amici, per la vostra settimana bianca, per le vostre vacanze. Residenz Traiano, sulla via Sublacense. Immerso nel verde, con tutti i comfort e per il vostro piacere un ristorante ad hoc. Prenotate e ricordate il Tribunale delle Romane. Avrete uno sconto del 30% su pernottamento e ristorante. Residenz Traiano, per evadere a due passi dalla vostra città. Siamo ritornati al passato per inventare la comunicazione del futuro. Radio Stapp, l'esperienza di ieri nei multimediali di oggi. Radio Stapp, l'unica. Ehi, non ci lasciare.